l'angelo del signore portò l'annunzio a maria ed è la concepì per opera dello spirito santo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen eccomi sono la serva del signore si compie in me la tua parola ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen prega per noi santa madre di dio affinché siamo fatti degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia o padre tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen e ora preghiamo insieme con la supplica la madonna di siponto o maria piena di grazia madre di dio e della chiesa generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te con il titolo di vergine santissima di siponto guarda a noi tuoi figli in questo tempo di preoccupazione di sofferenza per il contagio che alimenta la paura ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad elisabetta soccorrici nella nostra fragilità visita i malati illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo gesù cristo la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen madonna santissima di siponto veglia sul tuo popolo donna sapienza ai governanti e agli amministratori perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità sostieni chi si spende per i bisognosi i volontari gli infermieri i medici che sono in prima linea nel curare i malati anche a costo della propria incolumità ottienici dal signore la benedizione della chiesa a partire dai suoi ministri rendi la segno e strumento della tua bontà e della tua luce ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen o maria consapevoli dei nostri peccati ci affidiamo a te madre di misericordia accresci la nostra fede accompagna le famiglie rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli preserva agli anziani dalla solitudine fa che nessuno sia lasciato solo nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento intercedi per i poveri o vergine santissima di siponto accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza amen salve o regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricordiamo esuli figli di eva a te sospiriamo gemmenti e piangenti in questa valle di lacrime orso dunque avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria il signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen nel nome del signore andiamo in pace rendiamo grazie a dio